Un partito democratico che pensa all'Europa come un'opportunità e che parla agli italiani. Dalla Sala Galatea della stazione marittima di Napoli, Massimo D'Alema ha parlato della nuova forma partito, prendendo spunto dal tema dell'ultimo numero della rivista, Italiani e Europei. In tanti hanno preso parte all'incontro con uno dei leader storici dei democratici, che sostiene Cuperlo nella corsa segretario del PD. Penso che la persona più adatta è Cuperlo. Oltretutto Renzi non ha il progetto di guidare il partito, ha il progetto di candidarsi a guidare il governo. Mi pare del tutto evidente, sta facendo una campagna in cui di tutto parla meno che del partito. E naturalmente è legittimo che Renzi si voglia candidare a guidare il governo, solo che ha sbagliato competizione. Perché qui noi eleggiamo un segretario del partito, non ci sono le elezioni politiche. All'appuntamento promosso dalla rivista Italiani e Europei, ha partecipato anche l'europarlamentare Andrea Cozzolino. Siamo in una fase in cui l'Europa è avvertita dai cittadini italiani, ma soprattutto dai cittadini del sud dell'Europa, come una non opportunità in questo momento, come un vincolo. L'Europa che entra negli stati nazionali, condiziona le leggi di stabilità, impedisce di fare politiche di investimento e di sviluppo, crea un inasprimento fiscale. Quindi è difficile oggi sentirsi pienamente europei. Eppure io credo che il nostro paese può solo giovarsi dal rapporto con l'Europa. Se però cambiamo questa Europa. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, D'Alema da Bon Tifoso della Roma ha anche parlato di temi extrapolitici. Juve-Napoli, secondo lei chi è l'anti-Roma e se verrà fuori proprio da questa partita? Non so. Io sono tifoso della Roma. Per questo glielo chiedevo. Ho molta simpatia per il Napoli, devo dire la verità, perché sono meridionale e quindi tifo da Roma in giù, diciamo. E quindi la Juventus non rientra nelle mie simpatie, devo essere molto sincero. Però da tifoso della Roma devo sperare in un pareggio. C'è poco da fare. Il calcolo è obbligatorio in questo caso. Grazie.